Tutto è fermo nelle sedi dei partiti in attesa di venerdì. Il Via Vai di questi giorni ha lasciato il passo all'attesa dell'incontro che il segretario del PD Sergio Blasi e il presidente della regione Nichi Vendola, venerdì appunto, avranno per tentare di trovare una soluzione al problema presidenza del Consiglio che ormai da settimane costituisce il braccio di ferro tra il Partito Democratico e il Governatore. Da un lato Antonio Maniglio, dall'altro Onofri in trona. Da un lato il PD che ha ottenuto più voti e per questo reclama la presidenza di Via Capruzzi dall'altro Vendola che sottolinea come, con sei assessori, compresa la vicepresidenza, il PD dovrebbe mantenere i patti preelettorali che però i democratici negano di aver stretto. Un precedente però c'è proprio nel 2005 quando la Sise preferì Pietro Pepe a Luciano Mineo e dunque per evitare di tornare in aula con una maggioranza divisa si tenterà una mediazione. Potrebbero giocare un ruolo importante infatti gli enti come l'Acquedotto Pugliese la cui presidenza è e rimane di alto livello. In questo caso potrebbe essere individuato proprio Onofri in trona per ricoprire quella carica che è anche in continuità col suo assessorato del primo mandato. Sempre venerdì ci sarà un altro incontro importante, cioè quello degli assessori con il segretario Blasi perché sono divisi più che mai nella scelta tra chi li ha voluti in giunta e il partito che li rappresenta e per molti di loro ancora non si prospetta una decisione perché, dicono sottovoce, non sanno ancora che pesci prendere.